Musica Le sette in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus in primo piano sui giornali di oggi. L'informativa ieri al Senato di Daniela Santanchè che si è difesa dalle accuse nei confronti della sua attività di imprenditrice. E con il Movimento 5 Stelle che presenta una mozione di sfiducia. Si parla anche dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi ma sul fronte degli esteri il focus resta puntato sull'Ucraina e soprattutto sulle preoccupazioni per quanto potrebbe accadere nella centrale di Zaporizia con uno scambio di accuse tra Russia e Ucraina su chi potrebbe appunto sabotarla. E poi ci sono le preoccupazioni per quanto riguarda la politica monetaria della BCE in particolare le ripercussioni sui cittadini e Giorgetti che chiede un intervento per poter aiutare le famiglie sulla questione che riguarda i mutui. Allora partiamo subito con il Corriere della Sera, il titolo principale lo vediamo insieme dedicato appunto a Santanchè, la battaglia in aula. La maggioranza fa quadrato, mozione di sfiducia dei 5 Stelle e il PD si dimette a campagna d'odio, nessun avviso di garanzia indagata da più di otto mesi. E ci sono vari approfondimenti, retroscena di cui si parla rispetto a questa vicenda, veleni, critiche e rari applausi, il brivido per il governo e quei nemici al Twiga. E poi ancora sui retroscena la proroga dell'inchiesta e la cartolina in arrivo. Di spalla si parla dell'incontro ieri della Premier Meloni con il Premier polacco Moravieci, Meloni blinda l'alleanza con Varsavia. Restiamo uniti, in particolare la sintonia sulla questione che riguarda i migranti e sull'impegno per cercare appunto di evitare le partenze e quindi contrastare l'immigrazione illegale. Vi dicevo il testamento di Silvio Berlusconi che è stato aperto, i 5 figli e le aziende e una nota per fascina nell'eredità di Berlusconi. A centropagina la Francia, la gomma che uccide, c'è un'indagine sulla polizia per quanto riguarda la morte di questo ragazzo che è stato colpito dal proiettile innocuo, tra virgolette perché appunto è morto, filmava gli scontri. Andiamo a vedere la Repubblica, i silenzi di Sant'Anchea al Senato. La ministra del Turismo non chiarisce i punti oscuri dell'inchiesta e attacca su di me una campagna d'odio indagata dalla Procura di Milano già a novembre. Le opposizioni si dimetta mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, il PD la voterà. L'Unione Europea poi contro la riforma Nord, il commissario Reinder preoccupati. Ancora le questioni che riguardano anche sulla Repubblica l'eredità di Berlusconi. Mediaset e il dopo Berlusconi, aperto il testamento sul controllo di Fininvest, l'incognita del 20%. Pier Silvio il conflitto di interessi ci penalizzava, ora dice non esiste più. Di spalla alta tensione su Zaporiggio, ve lo dicevo, si avverte Putin, no ad attacchi nucleari. E poi, appunto, sempre sulla Repubblica, questa notizia di sport riguarda il calcio. Ancelotti allenerà il Brasile, primo CT italiano, verde, oro. L'apertura della stampa è dedicata anche questa all'informativa della Santa Anchea, odio su di me, è indagata, si dimetta. La Ministra si difende in aula sul caso Visibilia, mai ricevuto avvisi di garanzia, dice appunto la Ministra. Mozione di sfiducia di Movimento 5 Stelle e PD e la Premier teme trappole dai giudici. Si continua a parlare sui giornali in particolare, è un tema che sta seguendo la stampa, della questione dei rincari. In particolare in questa estate, l'estate dei prezzi schizzati alle stelle e la fine del mito dei voli low cost. E poi ancora ci sono appunto queste due fotografie a centropagina che raccontano due aspetti internazionali. I sopravvissuti, Xi Jinping a Putin che dice no al nucleare. C'è un reportage a firma di Francesca Mannocchi e poi i bimbi dannati catturati in Tunisia, portati in Libia e torturati. Ce ne parla appunto la stampa in questo reportage che trovate questa mattina. Andiamo sul Sole 24 Ore, alzare subito i tassi sui conti correnti. Il Ministro Giorgetti richiama le banche sui tassi timori di recezione. Poi si parla anche del PNRR e della corsa dei sindaci sui progetti, già assegnato il 91% delle risorse. Vediamo anche il fatto quotidiano. Sant'Anchè mente al Senato, indagata da novembre, ma giura di no. Meloni furiosa, medita di scaricare la Ministra, sbugiardata dalla Procura. Conte, mozione di sfiducia. E Schlein che si associa. Diamo un'occhiata anche al foglio, eccolo qui. In taglio alto, a firma di Claudio Cerasa, TikTok, che guai, Telegram, che fake, Twitter, che deliri, Zuckerberg e la fine della mortificazione di Facebook. Ben scavato, vecchio Zac. E poi a tavola con Pier Silvio, presente ai palinsesti Mediaset e si porta da casa la schiscetta con le carote. Dice non farò politica, ma l'azienda lo paragona al padre Berlinguer e karaoke sfrenato. E già il partito dell'amore. Ci fermiamo per una breve pausa e riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo al giornale, apertura dedicata anche qui al caso Santanchè, le solite toghe rosse. Il ministro apprende dai giornali di essere indagata. La notizia fatta filtrare proprio la mattina del suo intervento in aula contro Di Me, campagna d'odio. Libero anche qui, Santanchè indagata. Riecco il sistema Palamara. La ministra accusata di bancarotta è falso in bilancio. La notizia esce proprio nel giorno in cui si difende in Senato. La solita storia, titola anche Libero. Andiamo a vedere il tempo. Ultima spiaggia Santanchè sul caso Visibilia. Ministra indagata dalla Procura di Milano si difende in Senato. L'opposizione spaccata chiede le sue dimissioni. Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Il governo fa quadrato, sbagliato, trasformare il Parlamento in tribunale. Vediamo anche la verità. Eccola qui. Grandi manovre per salvare i socialisti coinvolti. I giornalisti pagati da Soros per screditare il Qatargate. L'inchiesta finisce nel tritacarne della feroce lotta tra Qatar ed Emirati Arabi. Sulla scia di questi ultimi si sono mossi pull di cronisti. Alcuni al soldo del finanziere. Il ruolo dell'autore del falso scoop del Metropol. Vediamo anche l'apertura dell'avvenire. Eccola qui. Sovranismo e muri. L'asse dei conservatori. Meloni con il presidente polacco contro le regole dell'Unione Europea per il blocco delle frontiere. La visita della Premier a Varsavia per rafforzare l'alleanza di destra in vista delle elezioni europee. Volevo però mostrarvi dalla prima pagina dell'avvenire anche questo reportaggio. Migranti respinti nel deserto dopo gli scontri a Sfax rastrellati. Gruppi di subsahariani che i tunisini non accettano. E poi le preoccupazioni per l'impianto di zaporigia. Rischi di incidente, tensione e minacce sulla centrale atomica. Allora andiamo nelle pagine interne e partiamo necessariamente dalla vicenda che riguarda l'informativa al Senato di Daniela Santanchè. Larringa in Aula Santanchè giura mai avviso di garanzia. Campagna d'odio rimbalzano però nella maggioranza voci di rimpasto. Le sue parole contro di me è un atto di strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio e per il rispetto che devo ai cittadini che rappresentiamo. Sempre dal Corriere della Sera, gli applausi al minimo. E' la poca velata allusione ai parlamentari che frequentano il Tuiga. Il figlio Lorenzo segue il dibattito in una saletta riservata. E c'è appunto la questione che riguarda questo avviso di garanzia. Andiamo a vedere un attimo su Repubblica. Indagata anche senza avviso di garanzia tra le inchieste su Visibilia e Key Group. Tre le inchieste su Visibilia e Key Group. Santanchè già a novembre iscritta dalla Procura per il dissesto finanziario delle sue società. I PM decidono di secretare la notizia fino a febbraio. L'accesso al registro delle notizie di reato degli avvocati della ministra però è precedente. Leggiamo un attimo per capire meglio questa questione. Allora, la verità sull'inchiesta sul dissesto finanziario delle sue società è un'altra. Già lo scorso 2 novembre, quindi ben otto mesi fa, Repubblica ha dato online la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per i reati di bancarotta. E' falso in bilancio nell'indagine del procuratore Laura Pedio ed EPM Roberto Fontana e Maria Gravina. Da quel giorno tutti i quotidiani hanno scritto della neoministra indagata per le sue quattro società in quel momento sull'orlo del fallimento. L'iscrizione è stata secretata dalla Procura, una facoltà prevista dal Codice, nei casi in cui sussistono specifiche esigenze di indagine. Lo stesso Codice però prevede dei limiti oltre i quali il segreto decade tre mesi non più rinnovabili. Per questo già da febbraio un normale accesso al registro delle notizie di reato avrebbe informato la senatrice di Fratelli d'Italia di essere indagata. Questa è la spiegazione per quanto riguarda la questione della notizia dell'indagine che ieri la Sant'Anchè in aula ha negato di essere a conoscenza, di essere iscritta nel registro degli indagati. Sempre su Repubblica Sant'Anchè lo sciò al Senato nel gelo della maggioranza e la mozione di sfiducia dei Cinque Stelle. Ma c'è un caso, le opposizioni si rincorrono, le litite tra Renzi e Calenda, PD spiazzato da Conte, Boccia prima attacca il documento dei Cinque Stelle e poi fa la retromarcia. Dunque questo è quanto accade nell'ambito dell'opposizione. Andiamo sulla stampa perché si parla del fatto che il governo teme la graticola estiva. Siamo in mano ai magistrati da Palazzo Chigi. Dubbi sulla linea difensiva ha combinato un pasticcio. Restano in piedi le voci delle dimissioni. Valentini di Forza Italia pronto a subentrare. Questo appunto l'analisi che fa la stampa di quanto sta accadendo e di quello che appunto poi potrebbe accadere. Andiamo a vedere le questioni che riguardano l'incontro di ieri di Meloni con il premier polacco. Meloni è l'asse con la Polonia. Chi vuole dividerci si illude. L'incontro con Moravieci che annuncia il referendum sui migranti. Ancora in retroscena Fratelli d'Italia non esclude convergenze con le pene. In Europa siamo pragmatici. Procaccini braccio destro della premier a Strasburgo. Dunque appunto le questioni che riguardano le elezioni europee sono naturalmente tutte ancora da sciogliere. E anche sulla Repubblica si parla di questo incontro. Schiaffo di Varsavia su migranti e alleanze. In Polonia si infrange il progetto della premier per l'Europa ai 2024. Avviciniamo chi ci è simile in vita. Ma il conservatore dice no al PP. Questo appunto un altro aspetto. Intanto c'è la Schlein che rilancia. Vogliamo lo Jussoli. Via la Bossi fini. La premier sta con chi alza i muri contro Roma. Stop a fondi alla guardia costiera di Tunisi. Questa appunto la posizione del PD nei confronti della questione migratoria. migranti. Diamo un'occhiata anche a quanto per quanto concerne il testamento di Silvio Berlusconi. C'era grande attesa. Ieri è stato aperto. Il Corriere ci racconta che c'è un lascito per Marta Fascina. Il notaio Roveda non dirò nulla né ora né mai. Ha detto ieri ai giornalisti che lo aspettavano. atteso per oggi un comunicato della Consob. Le ipotesi per la moglie dall'assegno milionario al suo futuro ad Arcore ai vertici di Forza Italia. Il confronto e il sostegno alla corsa di Tajani. Sempre dal Corriere della Sera. Fininvestì il controllo condiviso della holding. Passa ai cinque figli. Nel documento il destino del 61% del Cavaliere. I nodi da sciogliere sugli immobili. Dunque vedremo poi appunto nel dettaglio quali saranno e come saranno trattati determinati aspetti. Pier Sivio Berlusconi. Per ora io non scendo in politica. L'ho acchiarito. Chi sostituirà mio padre? Nessuno. Qualcosa di emotivo è messo in mosso. Il suo amore per il paese dice deve vivere. Queste appunto le sue parole nel ricordo. Dunque ha chiarito che non intende scendere in politica almeno diciamo così per il momento. Vediamo un attimo le questioni internazionali. Perché in Ucraina preoccupa la situazione della centrale di Zaporizia. Ci sono accuse incrociate su questo impianto. La IEA ha più tempo per i controlli. Zaporizia, Kiev e Mosca si incolpano di un possibile attacco. Disposti i piani di evacuazione. Intanto il Corriere ci racconta che la controffensiva fatica ad avanzare. I russi stanno in difesa e piazzano delle mine. Volevo farvi vedere un altro articolo che riguardava sempre la questione della centrale di Zaporizia. Vediamo se riesco a riferirlo rapidamente. Eccolo qui. Lo scenario. Quale potrebbe essere di un eventuale incidente? Eccolo qui. Danni solo entro 50 km. L'incidente nucleare locale ora terrorizza l'Ucraina. Questo appunto potrebbe essere uno degli scenari che si potrebbero concretizzare. Parliamo un attimo di un'altra notizia perché ieri si è laureato Patrick Zaki. Mandela, il mio esempio, le donne, la mia forza. Zaki, dottore a distanza. La tesi con 110 e lode discussa al Cairo. Lotterò per i diritti. C'è questa intervista che trovate oggi sul Corriere della Sera in cui lui tra l'altro dice appartengo all'Egitto ma anche all'Italia, alla sua società civile che tanto ha combattuto per me, all'Università di Bologna che mi ha insegnato cosa l'ambiente accademico può mettere in campo per difendere i diritti umani. Questo è un passaggio dell'intervista a Patrick Zaki che trovate sulla Repubblica. Vediamo un attimo anche le questioni che riguardano la riforma nordio che allarma l'Unione Europea con l'addio all'abuso d'ufficio, lotta alla corruzione, a rischio. Questo appunto l'allarme che viene lanciato. E su questa questione c'è un'intervista al Commissario per la Giustizia Reinder che dice attenti agli estremismi anche l'Italia difenda i valori europei. Volevo farvi vedere rapidamente anche le questioni che riguardano i mutui che tanto preoccupano tante famiglie che si trovano in difficoltà. Le banche allungano i pagamenti sui mutui. Visco critica la BCE più cautela sui tassi. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso lasciamo spazio a Paolo Sottocorona per il meteo. Buongiorno Paolo. Grazie Emanuela, buongiorno. Qualche nuvola in più al nord anche in queste ore del mattino o non sono evidentemente quelle che si formano per effetto del calore. Questa zona un poco più bianca, vedete, porta qualche pioggia. Niente di particolarmente intenso, però c'è una specie di linea di strisciata di nuvole perturbazione di questi tempi, è una parola, cioè questi tempi d'estate, insomma, è difficile definirla tale, però sono abbastanza organizzate questi nuvole. Vediamo allora gli effetti sulla giornata di oggi. Pochi, nel senso che qualche precipitazione un po' più intensa sulle zone alpine e prealpine, questo rientra nella normalità. Forse questa maggiore nuvolosità porta, è dovuta a questa, qualche pioggia debole in pianura, anche sull'Emilia Romagna, come vedete. Poi sul Friuli Venezia Giulia, quella zona in blu. In blu sono piogge moderate, insomma, oltre questo non si va. Qualcuna c'è in questo momento in zone vicine, quindi ci sta. Qui è finito il discorso piogge, perché poi al centro e al sud, ovviamente, sarei per dire, perché anche nei giorni scorsi e nei prossimi ci sarà ben poco al centro-sud. Vediamo la giornata di domani. Vedete che questa nuvolosità di oggi, che può portare qualche pioggia in più, domani non c'è e c'è qualche isolata precipitazione dovuta al solito ciclo pomeridiano di attività, che si presenta in parte anche sull'Appennino centro-meridionale, ma, insomma, con effetti minimi, se no, appunto, ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Arriviamo alla giornata di sabato, in cui ancora qualche fenomeno sulle zone alpine, e qui siamo rientrati totalmente in quel ciclo diurno, addirittura sulla parte orientale, nemmeno sulle Alpi ci sono precipitazioni, poco nulla al centro, ancora prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Questo, inevitabilmente, data la stagione, porterà a un certo aumento delle temperature, ne parleremo. Le minime di questa mattina, sempre sui valori abbastanza elevati, 18-20 gradi, in qualche caso, anche qualcosa di più, quindi sono minime piuttosto elevate, stato dei mari in prevalenza calmi o molto calmi, soltanto canale di Sardegna, Adriatico Meridianale, parte dell'Oionio, per venti da nord-ovest, qua e da est, invece, sul canale di Sardegna, ci potrebbero essere localmente mosse. Se no, possiamo definirli estivi o balneari, i mari, se volete, visto che di moto ondoso ce n'è molto poco. Se volete, ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità. E poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuela Garulli. A più tardi.